Buonasera, io sono Benedetto Grossi, sono il presidente della scuola edile di Modena e lo sono in qualità anche di consigliere di ANCE, che è l'associazione nazionale costruttori edili che fa capo a Confindustria. Perché sono qui? Sono qui perché ho il pregio da quando sono presidente di essere componente del comitato di AES che ogni anno organizza questa manifestazione importantissima e do la possibilità di contribuire con le mie idee, con i miei interventi all'operato che poi determina il programma di questa importante settimana. In che maniera contribuisco? In qualità di presidente della scuola edile che si preoccupa e si occupa della formazione dei lavoratori in edilizia, sono a volte in grado di portare dei contributi o di dare dei suggerimenti. Quali sono i contributi? Sono le constatazioni di quello che avviene in una scuola edile tipo modalità di frequenza, persone che la frequentano e necessità delle persone che frequentano la scuola edile. Quali sono i contributi o i consigli? Sono quelli di tentare suggerimenti, li avevo chiamati suggerimenti in effetti, di tentare dei lanci il più possibile in avanti, il più possibile in alto, affinché poi in qualche modo si ottengano risultati al di sopra di una quota troppo bassa. Perché, come si vedrà ancora di più quest'anno, la quota culturale si sta innalzando notevolmente, infatti ci sono dei temi importantissimi, la città smart, il BIM, il risparmio energetico che viene ancora più accentuato quest'anno, che sono obiettivi molto alti. Quindi anche la formazione o viene elevata verso questi obiettivi oppure rischia di diventare sterile.